Sistemi di avvolgitura o incappucciamento Come devono essere i sistemi di avvolgitura o incappucciamento per rendere felice l'imprenditore che li acquista? Prima di tutto devono essere estremamente versatili, perfettamente adattabili ad ogni esigenza di lavorazione. Poi devono essere disponibili in ampia gamma, per sacchi, fardelli e scatole, in versione semi-automatica o totalmente automatica. Devono essere progettati e costruiti per essere facili da manutenere. Ovviamente i sistemi di avvolgitura o incappucciamento devono essere realizzati per essere robusti e adatti anche ad ambienti aggressivi. Per rendere più efficiente il lavoro devono essere semplici da usare. Devono offrire controllo e pronto intervento manutenzione con un service online. I sistemi di avvolgitura o incappucciamento devono essere integrabili nella linea di processo. Per offrire la massima resa all'investimento, i sistemi di avvolgitura o incappucciamento devono essere progettati e prodotti esclusivamente con l'alta qualità ingegneristica e tecnologica italiana. Italian Made Ricapitolando, per offrire il massimo dell'efficacia, i sistemi di avvolgitura o incappucciamento devono essere estremamente versatili, in ampia gamma, facili da manutenere, robusti e adatti ad ambienti aggressivi, semplici da usare, con service online, integrabili nel processo, Italian Made. Quindi, per rendere felice l'imprenditore, i sistemi di avvolgitura o incappucciamento devono essere paglierani. Grazie